Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti ai nostri due pezzi da novanta della letteratura italiana e internazionale. Devo dire che sono due grandissimi autori, ma anche dei virtuosi delle presentazioni e delle interviste. Emanuele Trevi ci ha appena raccontato di una rocambolesca avventura per prendere un traghetto in cui si è esibito in un'attività ginnica invidiabile. Escolnevò ha fatto di recente un'intervista in cui non sentiva le domande, ma ha risposto perfettamente, quindi più di così non so cosa possiamo sperare. Emanuele Trevi, fresco vincitore del premio strega, Escolnevò è qui per tante ragioni, non ultima il film di Nanni Moretti appena uscito, che è tratto dal suo libro. Abbiamo quindi tre piani e due vite, praticamente un mondo da ascoltare. eppure vi confesso che non è facile, non è stato facile, spero di essere riuscita anche solo vagamente a tenere il filo di questi due grandi racconti, di questi due grandi romanzi. Con Escol abbiamo parlato abbastanza in questi giorni perché lui è nel corso di una amabile tournée in Italia, è molto contento, sta, come dire, guarendo da quella cosa che ha chiamato Italy Sick, che è home sick rivolto, cioè era la nostalgia che lui aveva di questo paese, che ama molto e conosce molto bene e che è stato lontano per lui, come tutti sappiamo, si sono moltiplicate le lontananze in quest'anno e mezzo, anzi di più. Di lui ammiro tantissime cose, devo dire che in questi ultimi giorni ho ammirato la calma, la flemma e l'entusiasmo al tempo stesso con cui ha affrontato le intemperanze e il carattere un po' spinoso del regista che ha lavorato al filo tratto dal suo libro perché direi ha un atteggiamento praticamente zen verso… raccontava qualche giorno fa che quando ha ricevuto una mail da Nanni Moretti che diceva voglio fare un film dal tuo libro, ha pensato subito che fosse o spam o che fosse uno scherzo di qualche amico invece, come tutti sappiamo, era vero. Emanuele Trevi immaginiamo e speriamo, ma direi di sì, che si stia riposando dopo quel tour de force divertente, entusiasmante che è viaggiare insieme al premio strega per i mesi estivi, quindi ti meriti un po' di vacanza. Adesso veniamo a cercare di capire cosa lega questi due libri, direi di cominciare da quello che non sono questi due romanzi, non sono dei romanzi storici, non sono dei romanzi d'amore in senso ortodosso, non sono nemmeno autobiografie, perlomeno non direttamente. A me è parso di capire che quello che li tiene insieme, come tiene insieme in fondo tutta la grande letteratura, sono legami, i legami che fanno parte del nostro essere umani. Tutti noi abbiamo dei legami, ma ogni legame è qualcosa che sta per conto suo. E i sentimenti, da una parte i legami, dall'altra i sentimenti. E quello che tiene insieme questi libri, così come la grande letteratura, è quella gamma inesauribile di variabili che sta in questa economia, in questa dialettica fra legame e sentimento. Ecco, sono due libri in questo senso, tutti e due molto complessi. E per questo affascinanti perché intessono una trama tra il legame e il sentimento, anzitutto naturalmente al plurale. Sempre con Escolnevo si parlava in questi giorni di un tema forte in questo senso, che è quello della genitorialità, dell'essere figli e essere genitori. E si rifletteva sul fatto che forse in termini sia di sentimenti sia di legami non c'è cosa più asimmetrica e se vogliamo forse anche iniqua del rapporto fra l'essere figlio e l'essere genitore e essere figlio è la condizione che meno scegli nella vita, perché non scegli di essere figlio, mentre essere genitore implica la più grande assunzione di responsabilità e di scelta che un essere umano possa coltivare dentro di sé. Quindi c'è un'assimmetria così irreversibile tra queste due condizioni e io pensavo a una cosa dell'ebraico e forse partirei di lì per quel che riguarda Escolnevo e cioè che in ebraico dici figlio o figlia naturalmente molto di più che in italiano, cioè quando in ebraico vuoi dire che hai trent'anni, dici che tu sei figlio di trent'anni, ben shalushim. La parola figlio entra persino in quella combinazione di legame e sentimento che dovrebbe essere quasi il contrario, cioè ben zug, per dire partner in ebraico dici che sei figlio di una coppia, sei figlio di coppia. Questo per dire come la condizione e il legame e la matassa di sentimenti della genitorialità sia qualcosa di veramente interessante da un punto di vista narrativo e coinvolgente. Io direi in entrambi questi romanzi perché è vero che il romanzo di Emanuele Trevi ha al cuore tutta un'altra sfera di legame e di sentimento che è quella dell'amicizia. È un libro su una grande amicizia ed è un libro scritto per amicizia, dall'amicizia e il legame dell'amicizia dovrebbe essere qualcosa di estremamente distante da questo meccanismo della genitorialità e dell'essere figlio perché dovrebbe essere il legame che più assumi come tua scelta di vita e soprattutto chi non ti è amico e chi ti è amico. E invece forse le cose sono più complesse sia nel libro Tre Piani di Escolnevò dove si parla di genitorialità, si parla di una tessitura, di legami e di cose che questi legami comportano molto complessa e nello stesso tempo nel libro di Emanuele Trevi c'è al cuore la scelta dell'amicizia che però è forse anche anch'essa una scelta di destino più che di opzione. Non so se sia una domanda però siete bravissimi e ve la avvolgete da soli. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sono molto felice di trovarmi qua. Buonasera a tutti quanti. Avere in Italia la mia seconda casa è il sogno di ogni scrittore, la mia seconda casa letteraria. mi è mancata l'Italia, mi sono preoccupato per i miei amici italiani. Scusate forse non sto parlando bene. Mi sentite? e quindi sono veramente felice di trovarmi a Torino dove racconterò meglio domani ma ho una storia precisa che mi ha cambiato la vita una decina d'anni fa quando sono stato alla scuola Holden. Potrei dire che è stata una delle stazioni del treno del viaggio della mia vita più importanti. Coming back to your question about parents and children, I had a scene coming into my mind and actually it happened in Cannes Festival. It was two months ago and Treppiani by Inani Moetti was presented in Cannes Festival and my daughter came with me. and my daughters do not read my books. They don't want to, they say it's boring, maybe it's a defense mechanism, I don't argue with that, it's okay for me. But for the first time in her life my older daughter sat in the cinema in Cannes Festival and she saw Treppiani, she saw the film based on my book. And when the film ended, she was very emotional, she cried a little bit during the film, she held my hand and when the film ended, she kind of turned to me and she said, Father, it's a really good movie. And then I told her what came into my mind, I told her, you know, I couldn't have written the book that is the basis to the movie without you. Without being your father, without the experience of being a father of my three daughters and specifically this daughter and maybe I'll let you translate and add something. Torno alla domanda che mi hai fatto Elena su genitori e figli. Ebbene, mentre parlavi mi è venuta in mente una scena che si è svolta al Festival di Cannes dove a giugno è stato presentato il film di Nanni Moretti basato sul mio libro Treppiani. Ero insieme a mia figlia che mi ha accompagnato a Cannes, abbiamo visto il film insieme e lei come le altre mie figlie non leggono i miei libri, non so se sia perché li trovano noiosi o perché è un meccanismo di difesa e non mi importa, io con loro di questo non discuto. Però ci siamo trovati in questa sala cinematografica dove veniva presentato il film e lei alla fine della proiezione era commossa e quasi ha pianto qualche lacrima, mi ha stretto la mano e poi mi ha guardato e mi ha detto papà questo film è proprio bello. E allora la prima risposta che mi è venuta spontanea è stato di dirle sai senza di te questo libro non sarebbe potuto nascere, non avrei potuto scrivere il libro su cui si è basato questo film. Senza di te le tue sorelle ma forse soprattutto senza di te. She is now 18 but once she was an adolescent. I don't know how many of you are now going through this of parenthood to adolescents or went through this if not with empathy if you are going through this. I think these years taught me a lot about my own boundaries, my mistakes, my own scratches, one of the biggest challenges in my life, I think, the adolescence of my two older daughters. and without of this I couldn't have written not Tre Piani and not L'Ultimate of Vista and my whole world was wider I guess because you understand how full of flaws you are yourself and how many mistakes you make as a parent and it taught me a lot. Mia figlia adesso ha 18 anni ma è stata un'adolescente e forse anche a voi succedo, è successo di avere dei figli adolescenti e quindi vi capisco. A me questi anni dell'adolescenza di mia figlia hanno insegnato moltissimo dei miei limiti, dei miei errori, delle mie ferite. Senza questi anni passati come padre di adolescenti non avrei potuto scrivere Tre Piani, non avrei potuto scrivere l'ultima intervista, non avrei potuto scrivere tutti gli ultimi libri che sto scrivendo. E questa esperienza mi ha ampliato il mondo, mi ha insegnato quali sono i miei difetti, le mie difficoltà, quali sono i miei errori come genitore. Cari amici, cara Elena, permettimi di continuare un poco a parlare di Amos perché io sono un po' emozionato di stare vicino a lui. Tu generosamente ci hai messo un po' sullo stesso piano, nel senso che ci hai invitato a tutte e due, per cui non potevi dire. Però veramente lui è un grande e quando siamo in presenza dei grandi ci viene un po' da parlare dei grandi più che di noi. E poi credo che il tema che hai lanciato e la risposta che ha dato Amos, scusa adesso stavo, si confondevo per la memoria di un libro di Amos Oz di cui volevo chiedergli, figurati. E Scola ha una capacità di rappresentazione dell'umano straordinaria. Io credo, anche statisticamente devo dire, adesso facciamo un discorso in generale che non riguarda solo lui, no? Quanto siamo stati allargati mentalmente da una letteratura che apparentemente ha la forma tradizionale del romanzo, come quella israeliana, no? Se penso quanto ci mancherebbe senza i libri di Abram Yahushua, di, scusatemi se li pronuncio male magari, di Amos Oz, adesso dei suoi. Che cosa hanno? Come è possibile che parlando di cose che per noi sono tangibili, del tutto quotidiane, ci sia questa specie di capacità di sollevare un velo, di farci vedere qualche cosa di abissale? A me ricorda molto una cosa che fa parte proprio della storia del romanzo, che è il romanzo russo. Io credo di rivedere in lui, adesso poi mi sono fatto proprio veramente una, un po' anche mi sono voluto preparare a questo incontro, no? Una full immersion in cose che già conoscevo, in cose che ho rilevato. Mi ha fatto venire in mente un nome, che è quello di Turgenev. E quello che lui dice, quando racconta di essere, quando va con la figlia a canna, no? E dice, non avrei fatto questo senza la tua esistenza, no? E' un tipo di pensiero sull'umano che è condizionato non tanto dal giudizio che del mondo ha una voce narrante in prima o in terza persona, ma dalle infinite forme delle relazioni umane e del loro, in qualche maniera, come la luce si trasforma nei colori, la relazione è quella luce bianca che poi si rifrange nelle innumerevoli sfumature del desiderio. Questa è una cosa straordinaria, cioè è come se loro, se Scolci dicesse, sì, siamo tutti uomini, ma le relazioni sono ciò che poi varia, questo essere uomo, e noi come possiamo parlarne? Ne possiamo parlarne perché noi creiamo desideri, reciprocamente siamo, uno di fronte all'altro come l'ape e il fiore, uno a un certo punto pensa di essere l'ape e invece è il fiore per un altro, questo è il mondo che lui riesce a costruire. E questa è la cosa straordinaria, la capacità che lui ha di passare da una concezione dell'umano come oggetto del desiderio a quella del soggetto del desiderio, è straordinaria, insomma, sono davvero, vedi, magari uno potrebbe essere, le catalogazioni editoriali sono un po' finte, nel senso che lui magari viene messo proprio come fiction, immagino, anche in Israele, eccetera, e io mi prendo questa cosa dell'autofiction, semplicemente perché io metto dei nomi e cognomi reali, però ecco, da questo punto di vista io non vedo davvero differenza nel nostro lavoro, credo che se poi il setaccio, il colino dove passa questa cosa sia l'esperienza umana, tra un personaggio più o meno inventato, è una maniera che ho io, perché io poi la base della mia cosa è il giornalismo, per cui mi viene naturale, no, di descrivere persone reali, di avere una descrizione reale, trovo che poi abbiamo lo stesso argomento, diciamo, in quel senso lo riconosco benissimo. Sono in una situazione che è il contrario di quella della figlia di Escol, nel senso che io ho letto Treppiani adorandolo e non ho visto il film, per cui, di Nanni Moretti, per cui la mia situazione è quella al contrario, forse è una cosa che, cioè, è ancora mio, nel senso che io credo che l'arte letteraria e l'arte cinematografica siano due arti profondamente concorrenti. Io scrivo molto per il teatro, credo che il teatro sia un'articolazione naturale dello scrivere, proprio una cosa che è praticamente identica. Invece perché concorrente? Perché noi facciamo il 50% del lavoro, l'ho quantificato nella vita, non è né più né meno, dobbiamo fare quel 50%, e l'altro 50% si compie nella mente del lettore, che immagina il primo, il secondo e il terzo piano, che attribuisce dei volti a quei personaggi che non può conoscere, non sa come li ha immaginati lui, e quindi lo completa. Lui fa il disegno, io faccio il chiaroscuro, lui magari un giorno legge un libro mio farà il contrario, anche qui vedi la simmetria dei desideri, governa la letteratura. E quindi credo che c'è un livello di ulteriore elaborazione in cui poi un film temporaneamente blocca questo gioco, perché si accampa nell'immaginario come versione totale per tutti. Figuriamoci un regista come della potenza di Nanni Moretti, della sapienza artistica, poetica. Quello che credo è che poi la letteratura sia più tenace, non voglio dire superiore, sia più tenace. Cioè che anche quando un grande regista come Moretti o come Kubrick in qualche maniera decidono della maniera in cui dobbiamo immaginare un libro, dopo un po' questo sia una specie di conquista parziale, limitata nel tempo. I libri sono una specie di Afghanistan, poi te ne devi andare, perché i lettori ricontinuano a immaginarli alla loro maniera. Non so se siete d'accordo. Guarda, mi fai venire in mente una cosa che diceva sempre, visto che l'hai evocato tu, Amos Oz, e cioè che ogni libro è tre libri. Il primo è quello che l'autore scrive, il secondo è il libro che avrebbe voluto scrivere, il terzo è quello che legge il lettore. In questo senso, quando tu raccontavi queste cose estremamente stimolanti, mi veniva in mente che noi in Italia spesso usiamo una parola che a volte ci sembra completamente inadeguata e a volte ci diciamo peccato che questa parola in italiano non esiste e si debba usare l'inglese. Sto parlando di una parola fiction, che in italiano non ha una corrispondenza precisa e io personalmente a volte sento tutta la sua inadeguatezza, sia in inglese sia in qualunque altra lingua, ma a volte mi dico peccato che in italiano non abbiamo una parola che possa tradurre precisamente. Esattamente. Esattamente. Allora vorrei sentire cosa pensate voi di questo. Prima di tutto, grazie mille per le vostre kind words e per me leggere. So, no, I wait for the translation of Due Vite so I can read you. Also, it's a book about friendship and this is one of the subjects that I'm most interested in as a writer. and when you were talking about the fiction and non-fiction and that there's actually not a difference between them, I was thinking about the characters in La Symmetria del Desiderio, which is my book about friendship. And I just remember this moment in the writing process. I was already in the book. I was writing it for about a year. And there was a birthday party to one of my daughters. Actually, it's the same daughter that was in Cannes Festival. And I invited all my friends to the birthday. I think it was her second or her third birthday. Third. All my friends. And from the beginning of the party, I felt a very strange sensation that someone is missing. Someone really important didn't come. And I was really troubled about it, but I was not able to find out who it is. Only in the end of the party, I understood that who is missing? The friends of La Symmetria. Yuval, Amichai, Churchill, Ophir. The characters. I've been spending so much time with them. They have become completely real. Like a child has an imaginary friend. They were my imaginary friends for so much time. They became real. I feel them. I still feel them, actually. And the book was published in Israel in 2007. I still feel them. I'm still connected to them as if they were real. So I totally agree with what you said, that this distinction between fiction and non-fiction is not that important. What is important is what you touch deeply, the themes you are talking about, the level of intensity that you are involving from yourself as a writer and then the reader. Sorry for this challenge. Innanzitutto grazie. Grazie mille per le tue parole e per aver letto i miei libri e io sto aspettando invece che i tuoi vengano tradotti in ebraico. Hai parlato di amicizia che è uno dei temi più importanti nei miei libri e hai parlato di questa differenza e somiglianza fra fiction e non-fiction e questo mi ha riportato alla mente i caratteri, i personaggi della simmetria dei desideri. Ebbene, quando io stavo scrivendo da circa un anno questo romanzo, c'è stato il terzo, mi pare, terzo compleanno di mia figlia, la stessa figlia che era con me a Cannes e ho invitato tutti i miei amici alla festa. Al compleanno, a un certo punto della festa ho cominciato a sentire che mancava qualcuno e non riuscivo a capire chi mancasse fino a che a fine compleanno mi sono reso conto che chi mancava erano gli amici della simmetria che per me erano una compagnia costante da ormai un anno, Yuvala, Michael, Fir, Churchill, i protagonisti ed erano praticamente diventati i miei amici immaginari come può averceli un bambino e lo sono rimasti, lo sono ancora e il libro è uscito in Israele nel 2007. Quindi, proprio come dicevi tu, questa differenza fra fiction e non fiction non è poi così reale. L'importante è l'intensità che c'è dentro un libro, l'intensità che tu ci metti e l'intensità e i contenuti che ci imponi. Siamo poi dentro, a mio parere, questo tema perché io ti potrei rispondere, no? In realtà noi abbiamo un termine che è finzione però non ha una non ha una la la abbiamo abbiamo la secondo me la base è questa cosa qui che noi abbiamo sul mondo vari ordini di saperi universali la giurisprudenza la medicina l'arte militare adesso non ve li elenco tutti che sono basati sul fatto di una specie di minimo comun denominatore tra tutti noi no? La legge è uguale per tutti vuol dire che il significato di una legge è uguale per per me per te per chiunque e questo modo di vita che abbiamo che è veicolato dal linguaggio ha un residuo una specie di ulteriore necessità cioè a un certo punto c'è una parte di noi che è l'individuo l'individuo reagisce alla pressione del mondo in maniera del tutto anomala imprevedibile può pensare delle cose sbagliatissime può può essere più aiutato dalla sua parte stupida che dalla parte della sua parte intelligente può costruire analogie tra aspetti talmente disparati dell'esistenza che nessun altro prima di lui ha stabilito quell'analogia tutto questo può sembrare inutile agli altri saperi perché è del tutto personale muore con l'individuo non si non si riesce a trasmettere credibilmente questa è la lingua della letteratura questo è quello che probabilmente è questa serie di concetti che noi potremmo attribuire al termine fiction o al termine romanzo ma anche alla poesia è chiaro che da un certo punto di vista il linguaggio che infatti non è stato fatto per scrivere libri letterari è stato fatto perché l'uomo non aveva zanne artigli ali e si doveva difendere per cui è proprio un fatto biologico noi siamo artisti che non lavorano con uno strumento proprio come può essere una chitarra un pennello un pianoforte noi abusiamo di una cosa inventata per altre cose che è fondata sulla generalità dei significati ma noi sappiamo benissimo dentro ogni singola giornata della nostra vita che le cose entrano in noi in maniera assolutamente strana bizzarra carica di paure di desideri di ansietà che non hanno per nessun'altra persona anche le persone che ci sono più vicino anche figli genitori nessuno vive la stessa vita di un altro e questo è l'argomento della letteratura e questo ci è straordinariamente è una cosa di una liberazione totale perché in qualche maniera lo scrittore la fa lunga su delle cose che gli altri non notano nemmeno perché è la sua lui ha un'idea bellissima nell'apertura dell'ultima intervista che poi qui siamo anche con la sua traduttrice quindi insomma sono cose che ti sono familiari lui dice ma perché sei diventato uno scrittore è la prima domanda no? e lui dice perché le mie fantasie erotiche da adolescente erano lunghissime i miei amici stavamo lì si addormentavano cioè e un amico gli dice beh devi fare lo scritto da grande diventerai uno scritto cosa vuol dire quella cosa? che tutto è così nella letteratura tutto è percepito individualmente e diventa lungo diventa pieno di ostacoli non va mai al dunque non è nemmeno gratificante perché solo la cattiva letteratura crea un'immagine gratificante e facile del mondo però è personale e quindi è insostituibile noi leggiamo e a un certo punto siamo riscattati da questo perché diciamo sì anche la nostra lunghezza il nostro addormentare tutti i nostri amici il nostro non saper esprimere bene una fantasia in termini di utilità ha un valore ha un peso nell'economia del mondo è proprio questo che è il motivo per cui stiamo qui siamo accomunati dall'amore per i libri sono queste le cose importanti ma non sono dei libri nostri poi dei libri che amiamo che in qualche maniera si assomigliano in questo io prima ho fatto un lapsus perché lo chiamavo Amos perché c'è un libro di questo maestro che amo Sod che è il libro di Giuda che è un libro ambientato in un certo punto di Gerusalemme non so se l'avete letto insomma comunque ve lo posso l'hai tradotto quindi l'hai letto in qualche maniera sai quello che fa la tesi di laurea sugli gnosti insomma quella cosa lì ecco allora ho pensato a un certo punto mi è venuto in mente che è uno dei libri di Oz che in qualche maniera assomiglia a lui non saprei nemmeno dire per che cosa perché semplicemente noi gli scrittori li valutiamo non perché sono bravi a scrivere perché bravi a scrivere sono pure gli asini non è quello perché sono esseri umani insostituibili tanto più sono dei singoli tanto più li amiamo ecco questo ho cercato per risponderti farei un applauso alla traduttrice perché quando parlavi del linguaggio mi è venuta in mente scusate questa parentesi che forse c'entra forse no che qualche tempo fa ho letto un libro forse scientifico non so quanto sia vera questa ipotesi sull'origine del linguaggio e cioè del fatto che quando abbiamo perso il pollice prensile la madre scimmia o cosa fosse doveva posare il figlio per terra per raccogliere i frutti e l'erba e quindi si perdeva quel contatto fisico diretto essenziale per la sopravvivenza della specie cioè del figlio per cui il linguaggio nascerebbe per paura per desiderio di vicinanza e per paura nel senso come strumento di richiamo e di salvaguardia in cui la madre e il piccolo hanno incominciato a comunicare a prima piangere l'uno per l'altro lanciare dei segnali vocali per continuare a mantenere quel contatto fisico che era impossibile per questa specie così lesa tutto sommato è così fragile e quindi quest'idea che tutti noi abbiamo questo strumento meraviglioso che è la lingua che però è il frutto di paura di mancanza e di desiderio mi pare che si attagli molto bene alla condizione della scrittura della scrittura di fiction e della grande scrittura come questa e allora a questo punto avrei una domanda che in parte già conosce perché ne abbiamo parlato ieri ma è un pubblico diverso che io credo che personalmente uno dei grandi insegnamenti che mi sono stati dati sulla scrittura sulla scrittura di traduzione è il fatto che non si deve dire tutto che il testo un testo è fatto non soltanto delle parole delle lettere dei segni di interpunzione ma anche di quello che non viene detto di quello che lo scrittore sa dei suoi personaggi e non mette sulla pagina perché è innegabile che tutti voi quando scrivete un romanzo sapete e conoscete i vostri personaggi più e diversamente da quello che mettete sulla pagina ecco allora diciamo provando a entrare un po' nel vostro studio sulla vostra scrivania vorrei che ognuno di voi ci raccontasse che cosa non mette sulla pagina a beneficio della storia e dei suoi lettori forse lui che non è tenuto a sapere cosa faccio io sono un critico letterario è un'abitudine Escol diceva che parlano così bene dei suoi libri che forse può stare zitto e continuare ad ascoltare gli piace So I will you were asking about actually about deleting and the power of deleting and not saying everything of the empty the white spaces the silence and so I will I will tell the audience that the very enlightening experience I had which is connected to a column I write it for Vanity Fair Vanity Fair Italy and when the editor offered me to write the column he said we want short stories according to the alphabet Vocabolario del Desiderio the Italian alphabet and because it's a magazine we need 650 words not more so the first letter A the first word I chose was Amore a story about Amore and I wrote a short story 650 words about Amore and I sent my translator the story and we find out that 650 words in Hebrew are 920 in Italian so we send the short story to the editor and he says but this is 920 words I asked for 650 and I answered this is my art this is my freedom this is what I have to offer and then he answers yes but this is a magazine there is a limit and we can't change it so here I was with the challenge what am I doing how can I take a 920 words text and then get it into 650 and actually at the beginning I wasn't able to do it it was really it was really hard to say goodbye to the words you fall in love with so I asked help I asked for help from some of my friends editors other writers I sent them the text and I said please help me to delete so one deleted 50 words and the other more 100 and eventually we got to the limit and I sent Rafaela the text again and she had the right amount of words now I will let you translate and then add something a propos of canceling and not to say everything and the silence and the space empty that there are in our pages of the editor I have an episode illuminating that I want to tell you that is to the rubric on Vanity Fair that I have obtained for almost two years I was requested to write short 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 alfabeto un vocabolario dei desideri dovevano essere non più di 650 parole perché questo era lo spazio che mi potevano dedicare bene la prima lettera è la A e il mio racconto ovviamente amore io scrivo un racconto di 650 parole e lo mando sta alla traduttrice e poi scopriamo che 650 parole in ebraico sono 920 parole in italiano lo spedisco così al giornale e mi viene rimandato indietro dicendo è troppo lungo io però sono un artista sono libero dico questo è il mio racconto questo è quello che vi posso dare e loro mi dicono noi siamo una rivista e a noi servono 650 parole a questo punto mi sono trovato con una sfida davanti ho chiesto ad amici ho chiesto a revisori ho chiesto a tutti quelli che potevano aiutarmi di stringere finché non siamo arrivati a 650 parole so what was amazing and maybe you won't be surprised by it as writers that when I look now at the two versions the 920 and the 650 definitely the short one is better definitely because it leaves room it leaves space for imagination not everything is said not everything is explained it's exactly what it needed to be so that was a very good lesson for me as a writer and I want to add something about Treppiani and so I let you translate forse per voi non è così incredibile ma io mi sono veramente stupito la versione di 650 parole era decisamente migliore dell'altra proprio perché lasciava spazio all'immaginazione proprio perché non tutto era stato detto e questa è stata una grande lezione per me come scrittore I think the most dramatic decisions that you make regarding what you ask is the ending when you get to the end of a story of a piano of one of the flaws or the ending of the book you have to make a decision as a writer what kind of ending are you giving your readers the kind of ending that they will feel satisfied that they will feel that everything is in place or a troubling ending a kind of ending that will bug them for years and years and years and specifically in Treppiani deliberately in every floor ends with a question mark and people were troubled about the endings of this book are troubled about the endings of this book and I like it very much I like it that people come to my readings here in Italy four years after the book was published and they are still troubled about the ending they want to ask about it they want to protest actually Italians are polite in Israel they shout at me why this ending why what about why didn't you tie all the knots and explain everything and I like it I like it when readers are troubled when they're not satisfied I'm satisfied one of the decisions the most drammatical for a writer is how to conclude the book or in the case of three p how to conclude every piano and you decide if you want to soddisfare your lettore mettere tutto a posto e dargli una fine chiara oppure lasciarli con un punto di domanda un punto di domanda che può durare anche anni e a me piace e con un punto di domanda volontariamente finisce ognuno dei tre piani del mio libro tre piani perché io voglio che questi che i miei lettori rimangano incerti e mi fa piacere che vengano quattro anni dopo la pubblicazione in Italia del libro di nuovo a degli incontri con me e siano ancora arrabbiati ancora vogliono sapere come va a finire il libro anzi gli italiani sono educati gli israeliani mi hanno proprio gridato dietro perché non avevo messo il punto definitivo ma quando il mio lettore non è soddisfatto io sono soddisfatto di lasciarlo con questo punto di domanda ti rispondo in una maniera abbastanza sono convinto che quello che dice la scuola è sempre vero quando a meno che non creiamo con un'omissione un difetto cioè in realtà non sempre quello che quello che togli crea bellezza per esempio un scrittore che ammiro tantissimo Manuel Carrer nell'ultimo libro fa un errore li fanno anche i grandi cioè c'è un'omissione dentro il racconto che ha una conseguenza estetica grave e tanto è vero che poi i giornali si sono dovuti occupare di perché quindi vuol dire che senza la spiegazione del libro poi sta in un pettegolezzo giornalistico c'è qualcosa che non va nel libro e lo dico di uno scrittore che ammiro molto io credo sempre che il consiglio di scrittura più bello una vera scuola di scrittura in miniatura la dia Hemingway in festa mobile con suo libro su Parigi un libro minore ma meraviglioso e lui dice se tu una volta che hai finito il libro togli solo le cose che non ti sono venute bene non hai fatto ancora niente tu devi togliere quello che ti è venuto bene e è un'assurdità perché noi lo sappiamo una cosa che ti è venuta bene è la su di sangue è tremenda come consiglio ma perché lo dice perché Hemingway che è una persona capace di farti vedere un'impronta di leone nella savana o l'atmosfera di un incontro di pugilato nel Tennessee degli anni 30 è come se sei là sa benissimo che la letteratura è un dispositivo meraviglioso orientato all'immaginazione del lettore l'immaginazione del lettore è il congegno più delicato forse tra quelli dell'arte umana perché mentre altre arti possono avvalersi dell'accesso dell'eccesso puoi essere Wagner o puoi essere un Picasso cioè l'eccesso ha un suo significato estetico molto importante anche nel cinema nella letteratura è diverso perché la fatica di immaginare va governata dallo scrittore allora è come un fuocherello tu devi mettere una foglia un filo d'erba prima che arrivi al primo rametto se tu metti un ciocco di legna su un fiammifero in teoria dovresti fare il ciocco bello infuocato del caminetto a Natale e no in realtà si soffoca il fiammifero e quindi noi abbiamo la necessità proprio di articolare il nostro discorso tra il detto e non detto in una maniera che non è troppo simile al fatto che non ci sarebbe musica se non ci sono le pause è proprio quella cosa là la musica è fatta di silenzio senza arrivare all'estremismo di John Cage che ha diciamo sopravvalutato la pausa diciamo creando delle composizioni astrosamente noiosissime noi che siamo più ragionevoli magari abbiamo un ritmo di sistole e di astole però il cuore funziona con la sistole e la di astole funziona con tutto quello che non dice quindi è credibilissimo l'aneddoto di Escol anche se da scrittore magari uno si offende che va in i difetti sta a dire no te conta le parole cioè è pure una cosa fastidiosa però sono quelle cose fastidiosi del nostro lavoro che hanno una conseguenza proprio in termini di bellezza positiva sai che quando parlavi dei del fatto del fatto che Hemingway chiede di togliere il meglio mi veniva in mente una cosa non il meglio quello che ti è venuto bene se no sarebbe proprio scemo cose che ti sono venute bene come le sacrifichi al dio della leggibilità sai che questo mi ha fatto venire in mente una cosa che io penso da molto tempo che forse può sembrare un po' bislacca e cioè per me il lavoro di traduzione non ha ben poco a che vedere sia con l'esercizio della scrittura sia con quello della lettura perché perché quando traduci un libro riconosci subito là dove c'è qualcosa che non torna che non è venuto bene e al tempo stesso quando traducendo scopri quel meccanismo che è quasi meccanico in cui capisci che la frase nella lingua di destinazione ti è venuta come doveva cioè è proprio un click che deve scattare ed è quello che tu mi dici in qualche modo è la cortina di tornasole di quello che io penso da tempo dell'atto del tradurre che sia qualcosa di molto diverso dallo scrivere e dal leggere proprio perché Emingway ha ragione e forse dovrebbe bisognerebbe come dire provare a a scrivere come dice lui e a non scrivere come dice lui a volte ecco io avrei ancora una domanda poi magari lasciamo lo spazio a due interventi del pubblico se siete d'accordo e la mia domanda vorrebbe un po' riportarci all'inizio di questa conversazione di cui posso dire francamente che vi sono molto grata a tutte e due perché è stato estremamente illuminante una parola che a Escol piace molto ed è la questione dei legami e dei sentimenti allora quando scrivete e il discorso vale secondo me per entrambi i vostri libri seppur molto diversi fra loro avete la percezione che i legami che si creano fra gli individui sono qualcosa che si configura come un destino quasi una predestinazione o sono soprattutto e forse quasi esclusivamente nella nostra esistenza degli esercizi di libertà come li configurate questi legami che si creano sulla pagina sulle pagine dei vostri libri ovviamente non è una domanda metafisica non ha questo è proprio quasi una domanda tecnica sulla vostra laboratorio di scrittura ecco no no never know how many of you have read Treppiani but the first floor is very dramatic of Treppiani now when I talk about Treppiani I have Riccardo Scramaccio in my mind suddenly he appears he dominates my imagination suddenly I don't want him now anyway Scramaccio or Arnon or Arnon at one point in order to get information about what happened to his daughter he is flirting and later on doing more things with the grand daughter of his neighbors she is a very young woman and while I was writing this it was completely unplanned I did not plan this narrative it just happened and I remember myself sitting in the writing room and I was trying to I was almost shouting at my own character don't do it it's the wrong thing and I think sometimes that the magical moments of writing and you know also of life that's when you do the wrong thing and it leads you to an unexpected direction per risponderti vorrei parlare di come ho scritto tre piani bene un paio di mesi prima di cominciare a scriverlo avevo letto un'intervista abbastanza rara a Alice Marrow il premio Nobel per la letteratura canadese e in cui lei diceva che lei non sapeva cosa avrebbe scritto oltre il paragrafo successivo conosceva tutto quello che sarebbe successo solo fino al paragrafo successivo e si lasciava sorprendere dalla sua storia e quando ho cominciato a scrivere il primo piano dei tre piani ho provato a fare la stessa cosa a scrivere non sapendo cosa sarebbe accaduto dopo il mio prossimo paragrafo non so se l'abbiate letto ma nel primo piano c'è una storia molto drammatica di un padre che sospetta che sia accaduto qualcosa di gravissimo alla sua a una delle sue due figlie mentre è ospite del vicino che gli sta facendo la babysitte e a un certo punto succede che il protagonista Arnon che io ormai vedo sempre come il protagonista del primo piano di Nanni Moretti ebbene lui comincia a flertare e poi va avanti con questa storia con la nipote del vicino di casa e quando questo mi è accaduto ho cominciato a scrivere questa scena avevo voglia di gridare al mio protagonista Arnon non farlo è la cosa sbagliata volevo urlargli dietro fermati non va bene però questi sono i momenti magici della letteratura i momenti magici nella vita quando a volte facciamo cose sbagliate e poi le cose sbagliate risultano essere proprio quelle più giuste I must ask you a question I'm troubled by this from the beginning of this event because from what I understand Doe Vite is about two real friends of yours what was the level of freedom that you allowed yourself while writing them could you write things that you're not sure that really happened could you invent do you allow yourself to write anesthetic things about them things that will embarrass traduco comunque un attimino per il pubblico volevo chiederti capisco che Due Vite che ancora non è stato tradotto in ebraico quindi non l'ho letto ma parla di due tuoi veri amici e ti volevo domandare quanta libertà ti sei concesso nello scrivere questo libro se hai scritto delle cose che forse non eri certo che fossero accadute o magari inventate o cose antiestetiche che loro non avrebbero voluto vedere scritte sono un problema che ho sempre nella scrittura dei miei libri e che sono molto affascinato e soprattutto in questo questo è un libro su due persone che hanno affronteggiato che hanno fronteggiato proprio quello che noi chiamiamo il negativo in una maniera come uno tsunami che si è abbattuto su di loro soprattutto lei è stata proprio un'eroina e hanno una cosa molto semplice che mi interessava che li accomuna che è la forza del carattere la forza del carattere che mi ha fatto pensare a loro proprio come guerrieri greci sotto le mura di Troia quello che viene viene però lo prendiamo in piedi e allora questa cosa non è fatta solo di virtù di cose belle i difetti sono la malta che crea questa muratura dato che è una cosa che mi ha dolorato scrivere delle cose su di loro avrei voluto attenermi alle cose belle alle cose per cui sono ricordati ma loro sono stati forti e la forza è più importante della virtù non voglio fare un discorso fascistoide la forza d'animo dico e questo mi ha sempre posto dei problemi però se no non è credibile quella cosa lì perché la forza d'animo è un ricorso a delle sorgenti di energia che hanno anche a che fare con la parte oscura del carattere con la disperazione con con quella certa violenza in cui noi affermiamo il nostro essere nella sua bellezza credo che dato che noi eravamo molto d'accordo su questa cosa qui loro me l'avrebbero sia lui che lei me l'avrebbero perdonato non mi avrebbero magari perdonato invece delle cose più leggere che vi sono permesso qualche pettegolezzo qualche scherzo sulla loro vita sentimentale credo che però fossimo d'accordo su questa cosa qui siamo stati così vicini dall'essercelo confidato molte volte grazie grazie un bel applauso ci sta grazie grazie